14 maggio 1916 Freddy fu mandato sulla Somme mentre il reggimento di Emile si acquartierò vicino a un villaggio su una collina Il villaggio si chiamava Vauqua Là il conflitto si combatteva sottoterra Rintanati nelle loro trincee Gli eserciti scavavano tunnel e gallerie La guerra sotterranea era iniziata Gli eser Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hey, what? Oh. 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 Sì. 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 Riturid la pere! Alla prima! 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 Grazie, vecchio! Alla prima! Alla prima! Alla prima! Alla prima! Alla prima! Gli ufficiali francesi erano orgogliosi delle pesanti perdite inflitte al nemico. Emile Furibondo rifiutò ogni decorazione per ciò che considerava un atto di codardia. Emile e Freddy però erano felici di aver strappato il padre di Anna dalle grinfie del barone Von Dorf. Le sue scoperte non sarebbero più servite a sterminare soldati. Dato che le buone notizie scarseggiavano, vollero godersi il momento. Ma Anna li informò della tragedia. Carl era stato ucciso mentre fuggiva dal campo di prigionio. Informato della sua morte, Emile fu sconvolto dal dolore. Grazie a tutti.